wow eccoci qua sono sempre da Matteo Barberi in questo podcast di cosa parliamo parliamo della di una delle parole più importanti per ottenere sostanzialmente maggiori risultati nel momento in cui sto prendendo un appuntamento telefonico quando sto portando l'utente verso di me questa parola magica la vediamo tra qualche secondo dopo qualche effetto iniziale è un piccolo inizio con noi eccoci qua ancora in questo podcast questo podcast lo potrei chiamare perché la parola non usiamo magica ma la parola importante è utilizzare il perché cioè la motivazione è fondamentale come diceva il diciamo il il soggetto più conosciuto nel mondo della della persuasiona che è Robert Cialdini Robert Cialdini ci parla che una persona è disposta ad aiutarci nel momento in cui io do un perché cioè una motivazione alzando quello che vengono chiamate risultati anche del 70% in più cioè dare un perché alla tua richiesta significa cioè dare un motivo significa dare maggiore input l'utente e come tale farlo agire questa cosa particolarmente come sempre semplice ma da avere nel cassetto ci permette nella comunicazione online nella comunicazione via telefono perché ricordate che tutti i mezzi sono nient'altro che strumenti di veicolazione della mia comunicazione ma se io non ho un perché che posso dire perché io devo avere un appuntamento con te perché devo andare da quella parte sarà difficile ottenere risultato alcune volte mi viene mi sorprendono per esempio il mondo del commercio che è tra virgolette uno dei mondi più arretrati da un punto di vista comunicativi perché se non capiscono perché io devo venire il negozio da te rispondete a questa domanda poi tutta la vostra comunicazione si baserà su questo presupposto perché io devo prendermi la macchina o devo andare a piedi nel tuo negozio il perché qual è la motivazione che porta in base alla motivazione costruirò la mia comunicazione sui vari media ogni media ha una sua logica di di utilizzo ma di fatto devo rispondere a questa domanda il perché la motivazione pensate nel momento in cui faccio cold calling che io di cui sono molto particolarmente legato perché tutto deve ruotare nell'equilibrio tra marketing e vendita oggi più che mai nelle grandi aziende ma anche nelle piccole devo essere onesti c'è un distacco notevole tra marketing e vendita cioè il marketing sogna e le vendite devono correre in realtà questi mondi devono essere molto molto più vicini di quello che in realtà oggi vedo ancora nelle realtà organizzative andiamo però al punto su quale volevo entrare ancora di più nella altra parola che oggi vi aggiungo come bonus in questo podcast è la parola chiedere perché chiedere perché in realtà nelle trattative e anche nelle comunicazioni di qualunque pensiamo al social al social il social ci permette di parlare di chiedere molte volte non si chiede non si chiedono cosa fare c'è il passo successivo da chiedere al vostro utente il chiedere è un elemento fondamentale però il chiedere prevede che cosa un'ansia prevede l'ansia del rifiuto del no quel no deve diventare parte integrante potete partire dal presupposto che no non esiste ma non perché non esiste con non andate a a fraintendermi perché è un presupposto da un punto di vista di mindset vostro perché se non avete quel mindset quella quella che viene chiamata sostanzialmente presuntivo e sicuro ci dovete essere presuntivo e sicuro nella vostra comunicazione e io qua invito tutti voi a leggere due libri di vendita perché se siete imprenditori o uomini di marketing dovete essere dei venditori ve lo posso dire con tutto il cuore ecco perché senza essere venditori il marketing non funziona quali sono i libri che dovete mettervi gli autori che vi consiglio uno jeblound tutti i suoi tutti i suoi libri ok e poi jeffrey getomer sono i due tutti quelli che sono di libretto rosso di jeffrey getomer molto interessanti ma tutti i libri di jeffrey sono interessanti sulla vendita perché sono molto più diretti sono meno pomposi ma sono proprio diretti nel agire nell'agire qui è interessante la differenza tra e vorrei farvi e chiudiamo questo podcast con alcuni esempi pratici che sono le l'atteggiamento tra quello che è un atteggiamento passivo e debole è un atteggiamento attivo e sicuro l'atteggiamento sicuro che è la cosa importante perché l'assertività la sicurezza nella comunicazione su qualunque livello determina un tra virgolette un condizionamento dell'utente ci permette agli occhi del vostro possibile acquirente un manzaggio diverso vediamo per esempio in telefonata e cercate di capire quanto è bello lavorare sulla vendita per capire il marketing allora è il momento giusto molti di noi chiamano il telefono e a telefono il proprio possibile acquirente è il momento giusto cioè posso chiamarle non la disturbo ecco quella atteggiamento è un atteggiamento passivo perché stai aspettando una risposta da parte dell'interlocutore qual è il concetto io non sto disturbando io sto offrendo un'offerta perché se tu parti già ti sto disturbando sei già in modalità passiva e in sicurezza allora parti già con dei punti meno mentre la risposta è il motivo della mia chiamata è perché cioè io chiamo perché il motivo la chiamo per questo motivo perché voglio incontrarla perché voglio conoscerla perché voglio presentare le soluzioni che le permetteranno di aumentare del 75 per cento i suoi numeri i suoi corsi ok alla domanda mi domandavo se mi dica che chi cosa perché cose dove dove questa è la domanda altra bellissima sono libero tutto il giorno questa è fantastica che che dico con voi cioè io non posso dire alla persona mi chiami quando vuole lei per un appuntamento no perché ovviamente voi lavorate come tutti se non date valore al vostro tempo sicuramente siete persone che non hanno un valore di satto voi siete attaccati dalla mattina alla sera ok sono impegnatissimo con dei nuovi clienti ma una finestra è libera alle 11 ok questo è un esempio pratico di sicurezza e insicurezza altra domanda di super sicurezza è quando dice questo orario le andrebbe bene quale orario andrebbe bene per lei ecco non puoi dire quale orario andrebbe bene per lei che ne dice se ci vediamo alle 14 cioè questi sono esempi pratici che vi fanno capire il vostro atteggiamento e quello che devono avere i vostri venditori e quello deve avere il vostro marketing il marketing non deve permettere di essere passivo ma di essere propositivo sicuro in modo tale si otterrete anche un rifiuto ma il rifiuto lo otterreste lo stesso anche nella modalità passiva non è che essere passivi significa ottenere un sì è che otterrete un no più lontano allora è meglio avere un no subito all'inizio in modo tale che il vostro tempo abbia un valore ricordiamocelo sempre da mattio barberi questo podcast guardatelo direi più sentitelo e buona giornata a tutti voi